E' vero, ci siamo dimenticati della videocritica io e papà. Che videocritica? Quella delle allegri comari di Windsor, siamo andati a vederlo tipo dieci sere fa. E me lo sono ricordato perché papà ieri sera aveva in mano un bicchiere di vino e assomigliava proprio a Pascaf, che è un personaggio delle allegri comari di Windsor, che ama molto il vino. E' vero, ma adesso mi hai fatto venire in mente, dobbiamo fare la videocritica. Però hai ragione, sai, sul fatto di Pascaf, ci assomiglio. La Pascaf ce l'ho, la voglia di vivere ce l'ho anche. Però non dici così tante bugie. In effetti, bugie non ne dico. Però papà, ho sentito dire che ogni venerdì ti vedono dalla finestra che parli per strada con degli extracomunitari e dei rom. Ma cosa sei, diventato una veglina, pettegola, esattamente come allegri comari di Windsor? E poi chi è che te l'avrebbe detto questo? Ma era detto il cugino del fratello della suocera, della nuora, della figlia, del secondo matrimonio della figlia, di me, Chelsea. Beh, insomma, era il tuo primo spettacolo shakespeariano. Sì. Della compagnia di quelli di Grock. Ti è piaciuto? Sì. Divertente, vero? Molto divertente. Benissimo, dai, bravi. Grazie. Grazie.